A tutti coloro che ci seguono tutti i giorni, che hanno scaricato la nostra applicazione, che non vogliono perdersi neanche un attimo della propria tv locale, l'unica tv locale che abbiamo nel nostro territorio, Rossini TV, appunto. Ecco, quindi vi ringrazio e vi saluto con tanta gioia e tanto affetto, anche per le tante belle cose che mi dite quando mi incontrate per la città, insomma, ci fa veramente tanto piacere che dite a me e a tutti i miei collaboratori, ci fanno davvero molto piacere i vostri apprezzamenti e cerchiamo sempre così di dare il massimo per garantirvi un servizio puntuale ed efficace e preciso, scusate. E allora, andiamo subito a vedere dove si collega la nostra webcam. Oggi è martedì 27 giugno, guardate che bellissima giornata che c'è a Gabicce Mare, guardate che bella spiaggia, quello lì è il Mississippi da poco ristrutturato, restaurato, è diventato luogo di svago, di passatempo, locale, di conferenze, quindi veramente un luogo bellissimo e questa è la spiaggia di Gabicce. Spiaggia di Gabicce che oggi è veramente felice, soprattutto anche tutta l'amministrazione comunale di Gabicce, è felice del successo che ha portato in città, ma poi in tutto il territorio, di Scodiva. Questo evento che ormai da diversi anni avviene a Gabicce Monte, in questo caso, e che porta in città e appunto nel territorio tantissime persone. E poi ve lo mostreremo anche in tv nei prossimi giorni, perché noi chiaramente c'eravamo con le nostre telecamere, c'era la nostra Roberta a condurre lo speciale, quindi ve lo mostreremo. Siamo giovedì alle ore 20, tutto il racconto di Scodiva. Allora, chiedo alla regia se mi può mettere la diretta di Facebook, così saluto anche i miei amici che mi stanno già guardando e stanno già scrivendo sui social. E allora, oggi sui nostri giornali, chiaramente come abbiamo fatto anche noi in questi giorni nel nostro telegiornale, sui nostri social, si torna a parlare di questo tragico incidente che c'è stato in questo scorso fine settimana. E allora qui vedete l'immagine delle due sorelle, un'immagine felice delle due sorelle Mazza, Martina in primo piano e dietro Alessia e a destra appunto l'auto del Macedone completamente distrutta. Ma perché poteva ancora girare? Beh, perché ci sono delle novità per quanto riguarda il Sultan e il fatto che non aveva la patente, che diverse volte era stato fermato, che comunque, ecco, era la sua auto, era una bomba innescata tre volte prima della tragedia, lui era sfuggito ai controlli a folle velocità e un giudice dissequestrò il veicolo intestato alla madre. E poi si parla anche di ricatti dove in questo caso il protagonista è la vittima, è questo 67enne che è stato incastrato da una coppia, paga o diciamo tutto ai tuoi, arriva alla polizia a fine dell'incubo per questo uomo che aveva fatto sesso con una donna che lo aveva addescato, un'altra persona aveva ripreso tutto e quindi in questo ricatto si sono concretizzate poi ore e ore tragiche per questo uomo appunto che non sapeva più come districarsi da questa richiesta di denaro. E il caso di scarica in consiglio. Il sindaco Ricci dà lo stop, riceci, mancano le condizioni, quel progetto va interrotto. E poi parte proprio in questi giorni la festa del porto che ci accompagnerà fino a domenica 2 luglio, festa del porto a Pesaro, evento molto sentito dalla comunità, chiaramente cittadina ma anche da tutto il territorio perché insomma celebra il pesce dell'Adriatico, ci sono feste, ci sono musiche e ci sono bancarelle ma anche giochi. E poi a Fanno il racconto di questi ingegneri che hanno deciso di arrivare con l'elicottero a mangiare in un ristorante proprio del Fanese. sono gli ingegneri della multinazionale Terna. Andiamo a vedere anche la prima pagina del Corriere Adriatico e qui in apertura lo stesso si parla. Del 27enne morto al volante della BMW, viaggiava a oltre 200 all'ora l'auto dissequestrata su richiesta della madre. Per Martina, a mazzo di fiori nel fossato della tragedia, migliorano le condizioni della sorella Alessia e anche del fidanzato, senza patente denunciato tre volte. E ieri eravamo presenti anche noi e vi abbiamo mostrato nel telegiornale la festa della Guardia di Finanza in cui sono stati snocciolati tutti i numeri delle operazioni che sono state fatte in questi ultimi anni importanti a cura della Guardia di Finanza. Non abbassiamo il livello d'allerta e i controlli sul territorio. Ed ora andiamo a salutare tutti i miei amici. Adele Cerisoli, benvenuta Adele, ben ritrovata del ristorante La Palomba a Mondavio, un ristorante che, se ci penso, mi viene la colina in bocca. Adele e poi Almerina, Daniele Malandrino, buongiorno, Maria Esposto, ben ritrovata Ornella. e poi ancora Paolo, buongiorno, saluti dal San Bartolo. In questo caso invece con Paolo siamo al Camping Panorama che appunto è già allestito ad accogliere tantissimi turisti. Tiziana, ben ritrovato, Roberta, Lorenzo Tagliaferri, Loredana. Quanti siete questa mattina? Siete davvero tantissimi? Fiorella, allora andiamo subito alle notizie perché non voglio farvi aspettare e voglio subito leggere con voi le notizie. Allora partiamo da questa tragedia di Montelabate. Ramadani, una bomba innescata, non ha mai avuto la patente, pensate questo ragazzo, mai ha avuto la patente e il giudice dissequestrò la BMW. Sultan evitava sistematicamente le forze dell'ordine gettandosi in strada a velocità folle. Lo ha fatto a Gabice, a Fano, a Pesaro fino alla tragedia dell'altro ieri. Lo sapevano tutti ma questa era la situazione. E allora, Sultan Ramadani sfidava la morte. Ogni giorno prendeva la BMW 420 X-Drive da 190 cavalli intestata alla madre di 57 anni senza patente, sapendo di non poterlo fare. Gli agenti di Sant'Angelo Invado hanno notificato il sequestro amministrativo della macchina a casa della famiglia Ramadani. Era l'atto necessario per arrivare alla confisca e alla vendita dell'avventura, ma c'è stato un colpo di scena. Il giudice di pace di Urbino, Paola Morosi, il 15 maggio scorso, ha dissequestrato l'auto su ricorso del legale della famiglia. C'era un pericolo pubblico che guidava una macchina da 190 cavalli senza patente. Il caso di Gabice. La legge ha arrancato da anni, ma nessuno ha effettuato un sequestro dell'auto, se non il primo aprile scorso, quando la polizia di Gabice Mare ha cercato di bloccare Sultan senza riuscirci, ma lo ha riconosciuto ed è partito un sequestro amministrativo dell'auto, revocato subito dopo, pensate. E allora c'è la rabbia di tutti i parenti di questi ragazzi che sono morti. Martina, il dolore e la rabbia dei genitori. Quell'auto era un proiettile vagante. Com'è possibile che quel tizio girasse con un bolide di 190 cavalli denunciato più volte? Allora qui vedete l'immagine delle due sorelle, Martina e Alessia Mazza, in una foto che li ritrae Serena appunto in questo locale. La famiglia Mazza è stata raggiunta da centinaia di messaggi di conforto. È dal 1991 che da Villa Ceccolini si sono trasferiti in località Molino Ruggeri a Morciola di Vallefoglia, dove Martina e Alessia sono nate e cresciute. Massimo lavora dalla Piera nell'unica libreria di Montecchio specializzata in libri per l'infanzia e quindi qui potete leggere un po' tutto il racconto. Alessia non sa ancora della sorella. Alessia, come sapete, è all'ospedale. Lei è fuori pericolo ma non ricorda nulla. L'amico Kevin, sulla 500 con loro, ha molte fratture e ha raccontato l'impatto. Kevin, amico delle sorelle Mazza è ancora in terapia intensiva. Ieri tra Bottega e Montecchio la gente non parlava altro che dello scontro provocato da una macchina lanciata a velocità. Quando l'abbiamo saputo ci sono venuti i brividi, dice una barista dell'età di Alessia e Kevin. Qui ci conosciamo tutti. Stamattina dei nostri amici comuni ci hanno detto che Kevin è tutto rotto ma cosciente. Ho temuto di soffocare, ho premuto sul finestrino con tutta la mia forza per uscire dall'abitacolo. Il racconto straziante di questo ragazzo che si è trovato appunto in questa auto completamente accartocciata perché le immagini le abbiamo viste molto bene. Ed ora cambiamo argomento ma ritorneremo con altre notizie su questo caso tra pochissimo. Intanto andiamo a vedere le celebrazioni che ci sono state ieri mattina della Guardia di Finanza. E allora qui in questo articolo di pagina 4 del resto del Carlino potete leggere tutte le operazioni che sono state compiute nel territorio della Guardia di Finanza. Reddito stanati 66 furbetti, gli evasori totali sono 88, arrestato anche un usuraio, l'attività delle fiamme gialle, 117 persone denunciate per danni erariali, la piaga contraffazione, 752 mila prodotti sequestrati perché non sicuri. E noi chiaramente ve li abbiamo raccontati in questi mesi di telegiornale quanti negozi sono stati chiusi, articoli sequestrati perché non avevano i marchi di garanzia e questo grazie chiaramente all'opera della Guardia di Finanza. Poi qui vedete una ragazzina, una violinista del Conservatorio Rossini che ha appunto a un certo punto dedicato una bellissima musica a tutti gli ospiti presenti. Tra gli ospiti presenti c'erano anche chiaramente le autorità locali, Marco Perugini, rappresentanza del Comune di Pesaro, gli assessori regionali, i consiglieri regionali, il presidente della provincia Giuseppe Paolini. Allora a proposito di provincia si ritorna a parlare della discarica di riceci che è impraticabile, il CDA di Marche Multiservizi, ma ora si temono le penali, lo spauracchio è stato avanzato più volte dall'amministratore delegato, Ricci dice a ERA e alla dispetta la gestione. Le strategie sono del pubblico. Sull'ipotesi di una nuova discarica riceci nell'ultima assemblea dei soci Marche Multiservizi alla presenza di ERA ha detto chiaramente, ha sottolineato che il progetto va rivisto perché non ci sono le condizioni minime a che venga portato avanti. Il sindaco di Petriano, prima favorevole, ora è nettamente contrario. La provincia ha espresso la sua contrarietà. L'assessore regionale Aguzzi ha detto che il progetto non è applicabile. Nel CDA di Marche Multiservizi, il presidente Andrea Pierotti, chiederà di interrompere il percorso di riceci e studiare un piano B. E noi chiaramente vi faremo sapere quale sarà poi il verdetto ultimo su questa discarica che a quanto pare non è voluta da nessuno. Ed ora andiamo ai fatti di cronaca. Seduce un 67enne e fa sesso con lui, poi lo fa ricattare due arresti. Allora, in manette è una 45enne che aveva circuito questo uomo dopo un incontro in un ipermercato. Lui ci casca, poi è costretto a pagare, se no, diciamo tutto ai tuoi. Il compagno era complice e la polizia blocca ambe due. E allora, insomma, questa coppia l'aveva studiata molto bene, aveva studiato molto bene questa truffa. Perché? Perché appunto avevano addescato questo 67enne, lei aveva richiesto insomma una prestazione, l'aveva insomma circuito. Il mio compagno ha scoperto, anzi ha filmato tutto, quindi il compagno di lei ha filmato tutto. Poi chiaramente con questo video hanno potuto ricattare questo uomo di 67 anni pesarese. I ricati sono andati avanti per diverso tempo, lui non sapeva più come fare, poi al momento della consegna di questi 250-300 euro che la coppia avrebbe chiesto, lui si è presentato con la polizia mobile vicino a lui e quindi hanno bloccato i due per l'uomo, un 44enne, anche egli già noto alle divise residenze nel pesarese per la donna compagna e complice nella vicenda, scatta l'arresto in fragranza di estorsione. E poi la partita del Benelli, lo stadio Benelli, stiamo parlando appunto di quelli che sono i tanti importanti progetti per questo luogo della città di Pesaro, via libera, alla permuta, sorgerà una farmacia al posto della Prato, il Consiglio Comunale approva, l'ASPES cede il supplementare, l'opposizione si divide e allora la permuta è stata creata per dare una via di uscita al comune per migliorare lo stadio e un'altra all'ASPES per fruttare una edificazione impossibile in loco, per intenderci due debolezze che diventano una forza. La seconda parte dell'investimento riguarderà l'area a parco con il circolo dei tifosi e anche il bagno pubblico. Alla fine sarà la società a ricorrere al finanziamento per due milioni di euro realizzando un edificio su via campo sportivo che sostituisca la vecchia tribuna Prato. L'ASPES costruirà la nuova sede della farmacia di Pantano spostando quella di Via Dandolo in affitto. Equilibri fragili per quanto riguarda la maggioranza in cassa il sì ma poi manca il numero legale tutti a casa. Allora la maggioranza del Consiglio Comunale sulla carta appare così solida dal non poter essere quasi mai battuta ma ieri sera approvata la delibera della permuta del Benelli il Consiglio è stato sospeso e riconvocato in seconda convocazione la prossima settimana per mancanza del numero legale. Una piccola rivincita per l'opposizione di centrodestra tanto che la consigliera Giulia Marchionni di cui si parla anche come possibile candidata a sindaco dell'opposizione si concede una battuta la maggioranza desaparecida l'assenza del sindaco è stata decisiva è andato via poco prima della mancanza del numero legale perché doveva seguire il Consiglio di Amministrazione di Marche Multiservizi e poi arriva la festa del porto diciamo che è quasi già iniziata fino al 2 luglio l'appuntamento storico del quartiere martedì la festa della famiglia con la gluppa mercoledì la commedia in dialetto con la piccola ribalta e poi chiaramente domenica 2 luglio c'è il gran finale con tanto di fuochi d'artificio bancarelle giochi e cene di pesce tanti gli appuntamenti previsti in programma dalla processione che ieri sera ha aperto la settimana alla cena di martedì 27 con la gluppa previsto per la festa della famiglia vi daremo anche noi aggiornamento su tutti gli appuntamenti che ci sono nel nostro telegiornale delle 19.30 della sera così come abbiamo fatto anche per il concorso di pittura che ormai è un concorso storico in occasione della festa del porto è prevista sabato la tradizionale gara inserita nella kermes 11 previ previsti 4 in più della passata edizione al primo premio 700 euro e le iscrizioni si potranno fare fino al primo luglio le iscrizioni per mostrare le opere che ritraggono il mare appunto le opere di artisti locali e poi altri eventi che inizieranno proprio questo fine settimana è un evento anche dedicato ai bambini che ha sempre un grandissimo successo sul territorio stiamo parlando di Baby Baia la piazza diventa un parco giochi per sei martedì consecutivi il martedì fino ad agosto un ricchissimo programma per i piccoli che potranno trovare divertimento appunto in Baia Flaminia a Pesaro ci saranno spettacoli divertimento e tanto altro e allora si parte stasera martedì 27 giugno dalle ore 19 con trucca bimbi laboratori pesca mercatino esibizioni prove società sportive esposizioni mostre la mia prima patente a cura di We Bike Marche e tanto altro alle 21 ci sarà anche lo spettacolo Man in Bubble con la partecipazione di We Bike Marche quindi veramente tutti i martedì questo appuntamento per i giovanissimi di Baia Flaminia ed ora a Bundum che ci segue sempre da Londra oggi festeggia 53 anni gli facciamo tanti auguri happy birthday allora Bundum grazie perché ci segue sempre appunto da Londra e allora lo ringraziamo e passa una buona giornata di compleanno ed ora andiamo a Fano e leggiamo questa curiosa notizia di questi ingegneri che hanno voluto fare un po' diciamo una cosa particolare quindi dall'Abruzzo sono arrivati con l'elicottero per pranzare nel locale fanese i commensali volano volanti scusate hanno fatto tappa qualche giorno fa l'agriturismo la grotta il titolare dice sono ingegneri di Terna venuti anche altre volte merito della nostra pista naturale allora vedete che c'è tutta questa pista predisposta per l'atterraggio anche di elicotteri a quanto pare e quindi questi ingegneri hanno apprezzato insomma sono potuti atterrare direttamente con l'elicottero e dall'Abruzzo pranzare proprio a Fano pensate mentre a Mondavio ci sono dei problemi con la DSL che va a singhiozzo però non solo sono problematiche che si possono verificare all'interno del contesto abitativo ma sono problematiche che possono poi dare molto disturbo alle attività come ad esempio le tabaccherie e allora due frazioni completamente isolate linea fuori uso da settimana incassi a picco chiaramente la protesta di questi negozi che utilizzano costantemente anche i POS la ricevitoria eccetera che si trovano senza poter fare usare ad esempio anche il POS il servizio banco ma eccetera proprio perché non c'è il segnale e poi questo treno a vapore sapete che insomma è stato riaperto qualche tempo fa e quindi siamo a Pergola c'è stato un assalto di questo treno a vapore e ci sono state emesse e sono state emesse altre nuove date disponibili per farsi questo bel tour nel nel territorio l'agenzia Criluma viaggi di Ancona che cura il servizio ha già reso noto sul proprio sito internet altre date sono quelle del 10 26 agosto e 24 settembre per le quali a breve sarà possibile effettuare la prenotazione su questo trenino a vapore al prezzo consueto di 55 euro per gli adulti che diventano 30 euro per i bambini dai 6 ai 12 anni appena 7 euro per quelli dai 3 ai 6 anni per prenotare è sufficiente collegarsi sul sito web crilumaviaggi.com crilumaviaggi.com crilumaviaggi questo è il treno storico della ferrovia Pergola Fabriano quindi se volete le date sono appunto il 10 il 26 agosto e anche il 24 settembre è un viaggio suggestivo è sicuramente da vivere da provare ed ora andiamo a Urbino togliere gli autobus una trovata infelice oggi parla lo scrittore poeta Umberto Piersanti sulla tesi che può essere poi convalidata nel territorio di Urbino cioè quello di togliere gli autobus dal centro dal centro storico la piazza privata della loro presenza non sarà più la stessa perché insomma ci sono tanti giovani a Urbino sì ma ci sono anche tanti anziani che quotidianamente utilizzano i mezzi di trasporto e allora qui c'è il racconto il pensiero di Piersanti su questa trovata infelice come la definisce lui e poi oggi ci saranno anche le telecamere di Rossini TV a Urbino all'Università di Urbino che salutiamo salutiamo tutti gli studenti professori il rettore Giorgio Calcagnini per le tantissime e bellissime cose che fanno ogni giorno dopo il sigilo d'Ateneo a Tonino Lamborghini adesso arriva il momento di Moratti qui vedete Massimo Moratti che sarà celebrato oggi a Urbino con il sigilo d'Ateneo veramente il suo intercampus opera da anni anche come strumento educativo e sociale in ben 30 paesi al mondo per parlare tantissime attività dove ci sono il fondatore di Emerging dove sono state fondate insomma tante attività anche benefiche pensiamo anche il grande aiuto che costantemente la famiglia Moratti da San Patrignano quindi veramente assolutamente meritato il sigillo d'Ateneo ed ora andiamo a parlare anche della mostra internazionale del cinema che questa è stata veramente un'edizione di grandissimo successo e allora Pedro Armocida che è il direttore artistico è stato intervistato da Claudio Salvi in questo articolo a pagina 23 che potete leggere completamente dove si fa un po' un'analisi le ultime tre serate hanno fatto veramente capienza massima in Piazza del Popolo serata molto partecipata quella con Carlo Verdone perché tutti erano desiderosi di ascoltare insomma le parole di questo importante attore allora per il prossimo anno si compieranno 60 anni della mostra del cinema in occasione proprio della capitale della cultura quindi probabilmente si pensa di fare il raddoppio compatibilmente dice Pedro le risorse disponibili stiamo pensando di aumentare non solo la durata del festival ma anche il numero delle selezioni e chiaramente anche gli ospiti quindi insomma preparatevi per una grande grandissima edizione del prossimo anno ed ora andiamo al Corriere Adriatico e anche qui saltando chiaramente le notizie che trovate anche sul Corriere Adriatico andiamo a rivedere un po' altri aggiornamenti per quanto riguarda il caso di questo grave incidente che c'è stato nello scorso fine settimana Ramadani in fuga a 200 all'ora vedete qua da anni guidava senza patente al volante della BMW denunciato tre volte la madre titolare dell'auto aveva ottenuto il dissequestro pare che l'auto sia arrivata addirittura a 200 all'ora sulla Montelabattese iniziando una serie assurda di sorpassi fino a quello fatale che ha causato lo schianto con la 500 guidata da Martina Mazza la BMW avrebbe tentato di superare una Hyundai perdendo il controllo andandosi a schiantare contro la 500L un impatto violentissimo tanto da farla finire nel fossato che costeggia la strada rovesciata in fumo tanto che ai primi soccorsi l'auto è sembrata in fiamme ma era il vapore del radiatore nell'incidente sono rimaste gravemente ferite altre tre persone il secondo passeggero dell'auto in fuga albanese coetaneo e complice del macedone alla guida una delle due sorelle di Martina e un loro amico di 27 anni uno dei feriti è stato trasportato all'ospedale di Torette di Ancona e nelle ambulanze gli altri due a bordo dei mezzi nel 118 il 27enne è stato sottoposto a un intervento chirurgico mentre la sorella della ragazza deceduta e il loro amico sono in osservazione dopo l'arrivo in codice rosso abbiamo visto insomma che insomma iniziano a a prendere coscienza ed ora c'è anche l'appello qui vedete Pierpaolo Frega siamo vicini a chi faceva il proprio dovere con coraggio il segretario provinciale SILP esprime solidarietà ai militari nella tragica domenica del 25 giugno tanto dolore tante vittime non solo quelle che ci hanno lasciato la vita in particolare Martina Mazza uccisa dall'auto impazzita ma anche le famiglie e gli amici che mai torneranno a vivere come prima il segretario provinciale del sindacato di polizia Pierpaolo Frega pensa anche allo sciocco e al dolore dei militari che stavano facendo il loro dovere Montelabattese ieri pomeriggio in una frazione di secondo nulla è più vero per niente per nessuno ci sono dei genitori forse un compagno forse insomma c'è tutto questo racconto che ha fatto sui social straziante per tutti quelli che erano lì presenti e allora qui poi vedete anche un ritratto nella pagina 7 del Corriere Adriatico un ritratto di questa vittima Martina Mazza la giovane mamma morta a 32 anni nell'incidente lungo la Montelabattese non ha avuto una vita facile con un bimbo piccolo da crescere un grande dolore nel cuore per il matrimonio fallito il giorno delle sue nozze nel 2016 è stato distrutto dalla scoperta di chi fosse veramente il suo compagno che all'uscita della chiesa era atteso dai carabinieri che poi l'hanno arrestato insomma veramente una situazione difficile e qui poi potete leggere altre notizie riguardanti appunto la povera Martina ed ora andiamo a parlare di Porta Cappuccina perché è stato sbloccato l'iter il comune quindi esproprirà l'intera area via libera all'unanimità dal consiglio nascerà un parcheggio da 150 posti vietato a tir e camper e quindi finalmente è stato sbloccato il parcheggio di Porta Cappuccina l'area verrà espropriata dal comune quasi 150 posti auto garantiti un nuovo fondo drenante ma senza asfalto per non impermeabilizzare il sito sarà la prima opzione per la sosta verso il centro storico ma vietiamo il parcheggio di tir e camper via libera ieri da parte del consiglio comunale all'unanimità al progetto definito esecutivo con variante al PRG per il parcheggio di Porta Cappuccina e poi a Urbino ci sono altre notizie in questo caso si parla del procuratore della Repubblica Andrea Boni lo vedete qui nella foto a Urbino lascia un pezzo di cuore dice colpito dal bimbo morto per otite il procuratore Andrea Boni si è congedato dal tribunale per assumere lo stesso incarico a Siena in questa città ho trovato un ambiente di rara preparazione con doti umani non comuni prediche a Gambini e difesa dell'ufficio di Ricci discarica di riceci la Lega accusa Carrabs di ipocrisia ritiri l'assessora a Pesaro Carrabs come sempre si dimostra un maestro di trasformismo e di ipocrisia politica ad Urbino fa le prediche al sindaco Maurizio Gambini accusandolo di avere venduto la città ad era mentre a Pesaro siede in giunta con Matteo Ricci che possiede il 25% di marche e molti servizi esprimendo un consigliere e il presidente di Multi Utility di cui era detiene il 46% queste sono le parole del coordinamento della Lega di Urbino guidata da Luca Rovetta la Lega Urbino conclude se l'ambientalista a fasi alterne Carrabs davvero pensa che marche e molti servizi faccia solo gli interessi di Bologna e di era ritiri dalla giunta di Pesaro l'assessore Maria Rosa Conti di Europa Verde queste appunto sono le parole intanto a Fano non ci sono delle belle notizie perché è stata fatta questa indagine nella diocesi da parte della Caritas che aiuta 4.000 persone perché aumenta la povertà alimentare e allora aumentano le richieste di cibo rivolte alla Caritas l'incremento della povertà alimentare è un evidente segnale di difficoltà nei confronti della diocesi rilevato da un'indagine risalente al mese scorso e qui potete leggere da Fano a Pergola i dati della Caritas diocesana 4.000 le persone assistite di cui 1.200 minori corrispondenti a 1.300 famiglie 3.400 euro la spesa mensile 40.000 euro l'onere complessivo annuale quindi complimenti veramente grazie per fortuna che c'è lo diciamo sempre la Caritas e poi andiamo a Fano e allora qui si parla di un altro incidente che c'è stato proprio in questi giorni schianto niente test sanitari faremo altri accertamenti auto nel Rio Secco la polizia locale dopo l'allontanamento del guidatore dall'ospedale due dei tre giovani finiti con l'auto nel Rio Secco nella notte tra sabato e domenica si sono dileguati dal pronto soccorso prima di essere visitati e in particolare prima che si potesse accertare se il conducente avesse guidato sotto l'effetto di alcol oppure di sostanze stupefacenti non si fermano le verifiche dopo il volo nel fosso di Cannelle dell'auto dei tre giovani e poi a Marotta allarme per una baby gang e minacciavano anche un clochard schiamazzi all'alba a Marotta ex agente fa scappare i teppisti con pietre e bastone e allora prima distruggono la panchina vedete una panchina e vandalizzano il parco poi si dirigono con sassi e un'asta di legno verso il rifugio di un clochard in Viale Carducci insomma questo è quello che succede anche qui queste baby gang come ci sono anche a Pesaro ci sono a Fano ci sono anche a Marotta questi gruppi di ragazzini che veramente si divertono a spaccare tutto quello che trovano i ragazzini poco prima avevano distrutto una panchina e compiuto atti di vandalismo al parco ed ora lo sport vis prima si vende poi si potrà passare ai nuovi giocatori e qui vedete Michele Menga che parla un po' di quelli che saranno gli sviluppi della squadra di calcio pesarese Fedato Piaccia Lavellino diversi biancorossi in partenza nella lista della spesa ci sarebbe il centrale difensivo Zagnoni Fano invece si lavora per la Lega Pro a fine mese si attende il primo verdetto della Covisoc per capire le chance di ripescaggio il DS in pectore corsale intanto porta avanti le trattative per allestire la nuova rosa Granata e poi c'è anche il basket chiaramente oggi arriva in città il nuovo coach appunto che passerà con questo anno sportivo con la VL stiamo parlando di Maurizio Buscaglia domani pomeriggio ci sarà la presentazione all'hotel Baia e Flaminia noi ci saremo chiaramente con le nostre telecamere il nuovo allenatore e i dirigenti biancorossi saranno subito chiamati a sciogliere alcuni nodi come ad esempio Moretti e Totè e poi vediamo anche le notizie su Tamberi ora in mondiale il campione olimpico marchigiano dice in Coppa Europa ho ritrovato stimoli e determinazione dei giorni migliori con il team abbiamo lavorato per resettare il mio corpo e prepararlo al meglio per due stagioni invece nel quotidiano nazionale vediamo anche qui l'articolo dedicato alla VL ecco il gran giorno del nuovo allenatore Buscaglia pronto a vestire il bianco rosso il coach sarà presentato domani alle 18 all'hotel Flaminio gli esse Stefano Cioppi dice è carico ed entusiasta per questa nuova avventura intanto vi vado a raccontare alcune date che ci porteranno alla nuova stagione del basket di serie A la nuova stagione parte il primo ottobre l'inizio della regular season ancora sponsorizzata da Unipol Sai è previsto per appunto domenica primo ottobre con chiusura della regular season il 5 maggio 2024 le finali di Coppa Italia si disputeranno dal 14 al 18 febbraio 2024 mentre per quanto riguarda i playoff l'assemblea ha deliberato che come già i quarti e le semifinali anche la serie di finale della stagione 2023-2024 si disputi al meglio delle 5 gare e non più a 7 come abbiamo visto appunto quest'anno e allora vediamo il meteo carissimi amici oggi è una giornata piuttosto soleggiata in tutta la regione Marche e qui vediamo il trebimeteo che prevede un tempo stabile ma con qualche nube innocua verso la sera io andrei anche nelle previsioni meteo appunto dell'aeronautica militare queste sono prevalentemente concentrate su Pesaro che nel dettaglio dicono che sarà una giornata un po' nuvolosa soprattutto ecco vedete verso le 18 le 19 sarà una situazione più nuvolosa attualmente i gradi sono 24 e quindi questo tempo con il quale dobbiamo fare pace per tutta l'estate instabile è veramente inaspettato improvviso improvvisamente cambia il tempo improvvisamente esce il sole e improvvisamente piove questa è l'estate del nostro territorio quest'anno e la dobbiamo prendere per come viene intanto amici andiamo a vedere la programmazione di Rossini TV perché oggi ci sono tante cose da seguire allora alle 20 intanto potrete conoscere Tonino Lamborghini l'abbiamo conosciuto questo grande imprenditore che ha portato avanti una generazione un'impresa di famiglia e l'ha anche un po' rivoluzionata con altri prodotti a prescindere dalle auto quindi davvero complimenti il nostro Antonio l'ha intervistato e questa sera alle 20 subito dopo il telegiornale delle 19.30 potrete vedere questo evento alle 21.20 vi mostriamo la serata finale della mostra internazionale del nuovo cinema di Pesaro anche qui tante cose raccontate e che potrete rivedere c'era anche Giuseppe Tornatore questa nella serata finale della mostra quindi tra i grandi ospiti di quest'anno anche il premio Oscar Giuseppe Tornatore che vedrete questa sera alle 21.20 e poi vi ricordiamo che domani c'è l'ultima puntata di Amministrando l'ospite con noi sarà Cinziaferi alle 21.20 questo programma che insomma avete visto in questi mesi e che ci ha fatto conoscere un po' le azioni sul territorio dei nostri amministratori locali e che poi tornerà a novembre quando inizieremo a fare Amministrando verso le elezioni 2024 dove vedrete i candidati a confronto e quindi insomma tante cose belle che ci saranno e andremo a seguire tutte le elezioni insomma in tutti i tantissimi comuni della provincia di Pesarurbino che proprio il prossimo anno cambieranno sindaco oppure lo riconfermeranno voglio ricordarvi anche il nostro telegiornale ricordatevi 19.30 questo è il nuovo orario 19.30 in replica alle 20.30 quindi questa sera ci vediamo appunto nel telegiornale e poi vi ricordo anche l'applicazione l'applicazione che è gratis si scarica gratuitamente da Google Play e con l'App Store scaricatela perché è utilissima potete vedere la nostra rassegna stampa anche quando siete al mare il nostro telegiornale quando siete a fare magari un aperitivo oppure quando siete in vacanza che volete seguire le notizie del vostro territorio sempre a portata di smartphone ho detto tutto carissimi amici un saluto un abbraccio e un bacio a tutti coloro che ci stanno seguendo anche dai social che ci stanno scrivendo io vi auguro una buonissima giornata seguiteci sempre mandateci le vostre segnalazioni al nostro numero di Whatsapp mi raccomando noi lo guardiamo tutti i giorni vi ringrazio e buon proseguimento a tutti i giorni a tutti i giorni